Soprattutto ha dimostrato in questi 20 anni di persecuzione dura perché è entrato in carcere 83 anni morto a 100 ha dimostrato coraggio coerenza, senso di umanità in tutte le occasioni quindi quello che è successo tutto quello che hanno fatto contro di lui sono polemiche fondamentalmente sterili perché hanno voluto vedere in lui il simbolo di un qualche cosa ma simbolo che lui non era lui era un soldato che ha combattuto dall'altra parte, tutto qua come quelli che hanno combattuto di là cioè le stesse ferratezze che hanno fatto di là lui si è trovato coinvolto giovane nella guerra e ha fatto il soldato che ha combattuto io ho ucciso noi vogliamo associare la parte etica la parte mercantica e proprio loro e farmi grazia e vi tantissimi Mariano Navarra Giuseppe Ninci Sestilio Ma perché andava immediatamente immediatamente non messa i furbi qualcosa di ancora più orrendo non messa i furbi Grazie a tutti.